Mi chiamo Matteo Bernardelli, sono un giornalista, mi occupo di agricoltura, ho scritto questo libro A come agricoltura dal Neolitico a Expo Milano 2015 insieme alla collega Giulia Bartalozzi che è responsabile dell'Accademia dei Georicofili per la comunicazione per raccontare l'agricoltura ai bambini, ai ragazzi e agli adulti che non la conoscono, questo lo posso appoggiare. L'obiettivo è quello di raccontare un settore fondamentale della nostra economia, un settore fondamentale anche perché ci permette di nutrirci e di mangiare, con parole semplici perché chiaramente si rivolge a dei ragazzi principalmente. Cerchiamo di toccare, abbiamo cercato di toccare un po' tutti i settori del comparto primario anche con qualche curiosità perché l'agricoltura ha anche rapporti con l'arte, ha anche rapporti con la religione, questo ha testimonianza di un rapporto profondissimo che accompagna la vita dell'uomo e che lega il settore primario.